Il caro energia continua a mettere in difficoltà le piccole e medie imprese della Sardegna che nel 2022-2023 hanno pagato l'elettricità quasi il 10% in più rispetto alla media europea per un totale di 260 milioni di euro di costi aggiuntivi. La provincia più colpita è Sassari-Gallura con un incremento di 96 milioni di euro seguita da Cagliari e il Sud Sardegna. Secondo l'indagine di Confartigianato Imprese Sardegna, i costi energetici per l'isola nel 2023 sono aumentati del 68% rispetto al 2021, raggiungendo un picco di 147% nella seconda metà del 2022. In due anni le imprese sarde hanno sostenuto quasi 1,5 miliardi di euro in più al periodo pre-conflitto russo-ucraino. L'incidenza delle bollette nei bilanci azientali è raddoppiata passando dal 16% del 2026 al 28% del 2023. Confartigianato chiede interventi urgenti come la diversificazione delle fonti e l'efficientamento energetico. Oggi abbiamo un costo dell'energia più alto d'Europa, il 10% in più, che sono tutte a carico delle imprese. Oggi bisogna trovare delle politiche energetiche che possano cambiare questo trend. Noi come Confartigianato puntiamo sulle rinnovabili, ma puntando anche su quello che è l'efficientamento degli impianti di tutti i territori sardi e italiani. Solo così riusciremo ad abbattere i costi dell'energia. Grazie.